Il mondo imprenditoriale bellunese, fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia, cerca ora di affrontare questa nuova fase 3 con l'obiettivo di riconquistare una nuova normalità dopo lo scenario drammatico causato dal Covid. Ma, avverte la numero uno di Confindustria Belluno Dolomiti e presidente del gruppo tecnico Sport e Grandi Eventi di Confindustria, Lorraine Berton, per le aziende si prospettano mesi molto impegnativi. La situazione è molto difficile, gli ordinativi ancora non ci sono per cui affronteremo un autunno assolutamente difficile, però l'imprenditore deve essere positivo e noi faremo di tutto per portare le nostre aziende fuori dalla pandemia. All'interno di Confindustria Nazionale intanto si discute sull'ipotesi di apertura delle fabbriche ad agosto da valutare ovviamente con i sindacati, un auspicio anche per Confindustria Belluno Dolomiti. Questa è una speranza, nel senso che speriamo veramente ci sia lavoro e se c'è, bene che le aziende rimangano aperte, perché vuol dire dare più possibilità a una ripresa più veloce, non possiamo assolutamente ritardare comesse se le abbiamo in casa. Nonostante la situazione attuale, tuttavia la fiducia verso il futuro non manca. I prossimi mesi saranno difficili, saranno duri, però dobbiamo guardare avanti perché l'Italia è un paese che ce l'ha sempre fatta e ce la faremo anche questa volta.